Il prefetto di Perugia è il presidio di tutti i sindaci con la fascia alle 11.37 in Piazza Italia, però è ovvio che dobbiamo lavorare. Rimoduleremo tutte le uscite, ci sarà una riduzione della spesa, daremo degli ulteriori segnali su questo tema del costo della politica al di là della retorica che si è posta, nei comuni non ci sono sprechi. Non è i 3.200 euro per 12 mensilità del sindaco di Perugia o di Terni che sono il costo della politica per svolgere un ruolo che per impegno, per responsabilità non ha pari in Italia, non ha pari con gli altri livelli istituzionali, non ha pari con i ministri, con i parlamentari, è chiaro? Per le responsabilità, tantomeno come ho detto qualche giorno fa in sede ANCI i 17 euro che prendono un consigliere comunale del circolo pubblico. Però daremo un segnale, ieri con la maggioranza abbiamo parlato anche di questo, rispetto alla questione del costo della politica, il costo degli organi politici complessivamente nel nostro comune è considerato il personale, del costo appunto dell'ufficio, è un milione e 700 mila euro di cui meno del 30%, indennità sta intorno al 35-38%, una cosa di questo tipo adesso la percentuale. stiamo intorno alla metà, sono i compensi, ma non è che noi possiamo pensare di confondere i costi del funzionamento della democrazia con gli sprechi, se no li eliminiamo, facciamo quelle follie di avere un sindaco e basta, non c'è più nessuno, ma non siamo disponibili a cedere sulla democrazia. Consentitemi di spendere due parole sul personale, perché ne ho sentite di tutti i colori in questi mesi. La spesa del comune di Perugia per il personale è in diminuzione da oramai sette anni, lo è in questi ultimi due anni, tre perché ci calcoliamo dal 2008, ma insomma parlo della mia consigliatura, siamo passati da 48 milioni a 43 nel 2011, siamo al 29% di incidenza, il detto massimo di incidenza della spesa del personale sul complesso del bilancio del comune è 40%, noi siamo al 29,50, il personale è diminuito da 1.347 unità e è passato a 1.293, ma il tema che è oggetto giustamente di attenzione, perché anche in questo caso credo che dal livello nazionale, al livello locale, dobbiamo dare interiormente dei segnali, il tema dei dirigenti, siamo passati da 43, parliamo appunto della fase nella quale ho svolto il ruolo, da 43 unità a 36 per una riduzione di circa 400 mila euro di spesa, sono aumentate il numero delle posizioni organizzative a invarianza, quello che voi chiamate mini dirigenti, che credo sia invece un fatto positivo la possibilità che i quadri intermedi possano crescere, ci sia una diffusione delle responsabilità, a invarianza di spesa rispetto all'anno precedente, cioè 340 mila euro per le posizioni organizzative che sono in vigore del comune di Perugia. Su questo respingo in particolare la demagogia, ma se non vogliamo usare questa parola, le falsità che vengono da alcuni esponenti del centrodestra, che enfatizzando la situazione che riguarda il comune di Perugia, non hanno detto una parola sul fatto che in situazioni di crisi a livello nazionale sono aumentati i ministeri, i dirigenti, che non è stato fatto nulla, cosa che si potrebbe fare per diminuire i compensi di le alte cariche dello Stato, degli altri funzionari dello Stato, perché non è possibile, i doppi incarichi, qualche giorno fa è uscita un'inchiesta sul giornale nazionale che parlava proprio di questo, di alti funzionari che sono messi fuori ruolo perché ricoprono altri incarichi, ma va avanti sia la carriera che lo stipendio, mentre io dico che questa è una cosa sbagliata e opero per ridurne la spesa dei dirigenti e del personale mantenendo la qualità, non facendogli questo però un elemento, come dire, il paradigma assoluto che va bene, perché io la spesa del personale la posso ridurre chiudendo i miei 14 assedini di nido a gestione diretta, questo è un disvalore, non un valore, è chiaro, dato che non è obbligatorio, dato che non è obbligatorio i miei 14 assedini di nido, ma io li voglio mantenere e li voglio mantenere con questo modello gestionale, la spesa del personale possiamo calare quella che possiamo recuperare attraverso l'efficientizzazione della macchina e è il lavoro che stiamo facendo. Voglio ringraziare e salutare il questore, il comandante regionale dell'arma dei carabinieri, il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri che lasciano il loro incarico, hanno fatto un buon lavoro e meritano la gratitudine della nostra città. Sul tema della sicurezza ci sarà da parte mia una richiesta al Ministero dell'Interno, al Prefetto, agli organi di pubblica sicurezza perché facciano ancora di più quello che è il loro mestiere. Sul tema della sicurezza ci sarà un inasprimento da parte del Comune allo spazio di sostanze stupefacenti, alla lotta all'abuso di alcol, con controlli ancora più severi, con l'emanazione come vedete di un regolamento di polizia urbana che recupera anche l'impossibilità di emanare ordinante. Non ci spaventeremo di qualcuno incatenato e chiederemo, voglio su questo punto essere molto chiaro, noi dobbiamo difendere l'onorabilità di cittadini perugini che sono cresciuti a Perugia e di cittadini perugini che vengono da altri paesi che sono qua integrati e che vivono bene. Per fare questo dobbiamo essere durissimi con coloro che vengono al nostro paese a commettere reati e dato che è evidente da dati oggettivi che ci sono alcune comunità nell'area della criminalità più presenti di altre vuol dire che c'è un canale che dobbiamo interrompere. Mi riferisco prevalentemente a paesi che si affacciano, il continente africano che si affacciano al Mediterraneo, in particolare tunisini che sono presenti nella nostra città che vengono per delinquere, nei prossimi giorni scriverò agli ambasciatori di questi paesi per chiedere di tutelare prima di tutto i loro concittadini onesti che vengono nella nostra città, di avviare campagne nei loro paesi di scoraggiamento a venire a svolgere attività delinquenziali qui, comunicheremo alle ambasciate informalmente perché non c'è dato nessun canale ma tutte le volte che sapremo che i cittadini di quei paesi commettono reati, noi invieremo a questa ambasciata generalità e foto di questi cittadini perché non è che nei loro paesi si sognano di svolgere questa attività e nel nostro lo fanno con una tranquillità enorme. Chiederemo non l'istituzione di CIE che so benissimo che il governo non farà, ma l'ampliamento di posti nei centri di identificazione ed espulsione, magari anche con un periodo minore rispetto ai 18 mesi di cui si parla, però che si ampli perché non è pensabile che non si possano fare operazioni di identificazione e di espulsione perché non ci sono posti liberi CIE e Perugia ha le situazioni che ha nella zona dei fronti vegli, il centro è migliorato, ma non è pensabile, non è tollerabile. Questo significa difendere cittadini di seconda generazione che vivono nella nostra città, giovani che di fronte a un sentimento di intolleranza che nasce rischiano di esserne coinvolti. È ovvio che tutto questo sta unito a questo lavoro sulla lotta alla riduzione della domanda, al lavoro di prevenzione, l'ho detto più volte, abbiamo istituito il tavolo, ma da questo punto di vista dobbiamo inasprire il più possibile. E' abbiazza che questa sia la mano di tutte le battaglie. Ritengo demagogico alla posizione del governo sulla eliminazione dei piccoli comuni e delle province, io ho sempre detto che i dipendi possono rimanere, deve essere chiaro che non può esserci una sovrapposizione di competenze, non può funzionare che in piano attuativo se ne occupano in sette. È impossibile, per cui ritengo che la discussione che si è avviata a livello nazionale sia sbagliata, molto più importante il lavoro che abbiamo cominciato a livello regionale, la costituzione dei comuni, la ridefinizione delle competenze tra comuni, provincia e regioni. Abbiamo un rapporto positivo, non è che tutto sto disastro dalla presenza delle province io non l'ho percepito, ritengo che su alcuni temi abbiamo deciso di dividere le competenze, ho detto che la pianificazione e l'attuazione territoriale, urbanistica, debba stare in capo, la legislazione della regione, l'attuazione ai comuni, penso come ho detto sul turismo o sulla viabilità di area vasta, le competenze che noi le avevamo individuate andavano bene in provincia, ritengo questo dibattito assolutamente inutile e dannoso, l'avvio e l'accelerazione giusta, necessaria, l'accelerazione necessaria che ha dato il Presidente della Giunta regionale nei giorni scorsi alla riorganizzazione e al riordino istituzionale della nostra regione è un fatto importante, ci vuole senso di responsabilità della classe dirigente a livello territoriale, non dobbiamo affrontare un dibattito da tifosi ma da classe dirigente responsabile che stanno in ambito degli altri, tornino ai comuni, agli istituzioni diretta dei comuni, su base territoriale che adesso sarà quella degli altri, poi a mio avviso dovremmo andare per acqua e rifiute in un ambito territoriale unico a livello regionale ma ci dobbiamo arrivare, così come ritengo giusto il mandato che è stato dato all'assessorato all'ambiente di lavorare e di accelerare la costituzione di società uniche per l'acqua e rifiute in affrontare una riduzione della spesa ospedaliera e un riparto nella spesa sociale perché in particolare anziani, diversamente abili, abbiamo un'emergenza vera, per cui la razionalizzazione che dobbiamo mettere in campo nella sanità della spesa ospedaliera la dobbiamo riversare nel territorio dunque abbiamo sofferto molto la chiusura delle circoscrizioni perché avevamo un tanto personale volontario che lavorava in un territorio di 450 km quadrati, abbiamo svolto come ci eravamo impegnati con il nostro programma un lavoro che avremmo portato a compimento sulla possibile organizzazione dei consigli quartieri e era pronto per andare in partecipazione ma voi capite che in questo contesto pensare di andare a passare con un'elezione di consigli ci prenderebbero per passi, discutono di chiudere le regioni, le province, i comuni noi non possiamo pensare di riavviare, sarà un ragionamento che magari personalizzando la spesa nel momento in cui si tornerà al vuoto potremmo riprendere in considerazione ma sto valutando una maggiore presenza politica e amministrativa nei quartieri ma prevalentemente politica che ci possa da un lato consentire di aiutare i cittadini e recepire al meglio le istanze. Stiamo valutando l'adeguamento del piano regolatore dopo dieci anni della sua entrata in vigore, è cambiata ovviamente un'epoca, una fase, una sua fase di avvio di espletamento del piano ritengo utile verificare la sostenibilità all'interno dei principi che hanno come dire regolato il 2002, cioè la fine del consumo del territorio e dell'espansione territoriale, la rivisitazione nella città compatta e la possibilità di dare magari risposte ad una esigenza di riqualificazione, di completamento sia di spazi pubblici, di vuoti urbani che di esigenze private sia in campo produttivo che in campo residenziale che nella città si sono sviluppate. Urbana, della sostenibilità ambientale, la scelta di come abbiamo già fatto in questo ultimo periodo, la valorizzazione dell'esplicitazione energetica e quant'altro sarà al centro della nostra attività. Dentro a questo lavoro il tema della casa è un tema fondamentale, avvieremo nel corso delle prossime settimane, con questo ne abbiamo parlato, ma siamo arrivati alla fase finale, la vendita degli alloggi di edilizia residenziale per utilizzare quelle risorse da un lato per le manutenzioni, dall'altro per l'avvio di una nuova fase di edilizia pubblica. Dentro alla questione della riorganizzazione urbanistica, lo abbiamo detto alla sala dei notari qualche settimana fa e ribadito nell'avvio della cabina di regia presso la giunta qualche settimana fa, il tema fondamentale è la presenza dell'università. La difesa e il rilancio della qualità della didattica e della ricerca passa anche attraverso un processo di riorganizzazione che anche in questo caso supera i vecchi protocolli che erano stati firmati dieci anni fa per la riorganizzazione dell'università. Oggi hanno ripreso l'attività mille e ottocento bambini nei nostri nidi e nelle scuole materiche. Non c'è stato un posto in meno, non c'è stata una riduzione, non c'è stata nessuna chiusura, è un fatto assolutamente straordinario dentro al contesto che avete visto, l'avete rilanciato voi, di difficoltà che vive la scuola con la riforma gelmini. Ma il 9 di settembre, che sia una completa conferenza stampa, daremo anche il quadro complessivo dei servizi e dell'attività. L'ultima cosa che voglio dire è la riserva allo sport, voglio ovviamente fare in bocca al lupo alla società per l'avvio del campionato vicino. Mi sembra che le prime perforze stanno andando bene, ieri abbiamo fatto bene in Coppa, continuo a sostenere che abbiamo fatto bene dentro a quel caos che c'era in quel periodo, a comportarci in maniera limpida, trasparente e a scegliere lo sport e non sono stati spinti, sponsorizzati, si erano presentati qua, hanno fatto una fine che voi è nota da quelli che hanno comprato società da altre parti, a quelli che magari avevano affari in altre realtà, per cui io ringrazio ancora la società, ma rivendico a questo Comune l'onestà e la trasparenza.